Se il Bari può dirsi ancora in corsa per l'obiettivo Serie B, anche le altre squadre pugliesi possono lottare per le rispettive ambizioni. Foggia e Biceglie su tutte, con i rossoneri impegnati a pieno titolo nella lotta play-off e i nerazzurro stellati che hanno ritrovato il carattere necessario per centrare la salvezza diretta. Il Foggia sembra essersi messo alle spalle il calo di rendimento di gennaio, con i sette punti nelle ultime tre partite, che hanno rilanciato i satanelli al quarto posto in classifica. Marchionni l'ha confermato nell'immediato post partita di Potenza, anche se timidamente, dopo la vittoria per 1-0 sui Lucani. Non ha più senso parlare di obiettivo salvezza per una squadra che ha toccato quota 36 punti e che sta dimostrando di meritare lo status di Big del Gironer C. Sabato un nuovo esame di maturità, stavolta allo Zaccheria contro il Catanzaro. Per i rossoneri la partita più difficile rimane sempre la prossima. Il Biceglie invece sta cominciando a cambiare marcia dopo l'arrivo di Aldo Papagni in panchina. Il nuovo tecnico di Nerazzurro Stellati sta modificando pian piano l'organico, nella testa e nelle gambe. I due pareggi contro Avellino e Turris lasciano più di un pizzico di rammarico. Sensazione però pressoché impensabile alla vigilia dei due match. Questo è già un segnale importante in ottica salvezza, con il gruppo Bicegliese pronto ad alzare la sticella per portare a casa le prime vittorie. Sabato si va a Palermo, contro una squadra che ha già regalato gioia all'andata. Serve un risultato di spessore per mettersi ancora più a ridosso del Monopoli. Un'altra delle Pugliesi in lotta per la permanenza in Serie C, permanenza che comincia a sembrare acquisita anche per la Virtus Francavilla, che al momento occupa l'ultimo posto utile nella griglia playoff. La sconfitta contro la Juve Stabia non è esattamente indolore, ma non cambia granché gli equilibri. A metà febbraio le ambizioni delle cinque squadre pugliesi rimangono vive e vegete.